Prosegue l'attività di controllo delle guardie del WWF nel territorio di tutta la provincia nissena. I loro interventi negli ultimi giorni hanno consentito di individuare due incendi in orario notturno nelle campagne tra Marianopoli e Santa Caterina e un altro nei pressi della vecchia stazione di Butera. I due incendi sono stati prontamente segnalati ai vigili del fuoco e alla guardia forestale. Le guardie del WWF aumenteranno la sorveglianza in tutto il territorio provinciale vista l'imminente apertura della stagione della caccia prevista per domenica 18 settembre in modo da scongiurare eventuali episodi di bracconaggio. A questo proposito il WWF invita i cittadini a segnalare casi di caccia di frodo o qualsiasi altra attività illecita ai danni degli animali e dell'ambiente, maltrattamenti e malgoverno di animali, uso di trappole, tagliole o reti, casi di detenzione o allevamento di specie protette, sbancamenti, abusi edilizi, scarichi inquinanti nei corsi d'acqua e tagli abusivi di alberi. Va ricordato che il lavoro del WWF si basa unicamente sul volontariato. L'associazione infatti non riceve alcun compenso per questa attività di vigilanza e si basa unicamente sulle donazioni dei privati e sullo spirito di servizio delle proprie guardie volontarie.